Ciao campioni, benvenuti. Oggi torniamo alla Weekend League. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. La squadra è questa. Abbiamo trovato Rashford, Nakata e la difesa l'ho upgradata la scorsa settimana quando era appena finita la Weekend League. Oddio, devo prendere di nuovo le misure. Pronti via! Eh, dovrebbe essere rigore. No? Ok, errore mio, scusate. Disastro. Non riesco a giocare, non capisco il perché. No, comunque, è di rigore. Ok. Dai. Ma si è scansato. Ma come fai a scansarmi? Affanculo. Ah, voilà! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! Grazie a tutti. 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 Non è minimamente possibile tutto ciò. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oddio, quit. 2 su 8. Dai, mica male, il 20%. Allora, rigore. Allora, rigore. Non è possibile questo, fratello. Ehi, amico. Dai, fratello. è normale, è normale. È normale, è normale, è normale. bravo campione numero uno no Rashford finito quindi ora ci mettiamo comodi e giochiamo con tutta la calma del mondo giuro che me la voleva regalare questo qua grazie bro per mio figlio questa bella è bro bravo questa è una bellissima azione marci nooo 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 no settantesimo cambi subito no 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 vaffanculo 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 e la madonna ma che che squadra è? Eh, voglio capire perché Perché era così il buco Oddio, oddio, oddio Vai È giusto, è giusto, è giusto Ho switchato troppo lì Ah, Rodrigo è così forte, va bene E ora un po' ti tranquillizzi, dai Lui sta impazzando ora Bella Nooo, dai Uffi Qua No Rüdiger, sempre lui Riaperta, dai Riaperta, dai 3-3 Che scemo che sono, oddio Quando serve, c'è sempre Mastro Lindo Mamma No, vai, vai Mamma mia Madre Madre Ma che c... Come sempre Io questo ho sbagliato Perché io c'ho questa cosa Dario, Dario 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 Delirio La folla Per Marcus Rashford Saltato su Varane Dai Dario Bari Bari Dario Bari 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 Eccolo E va a vincere Campioni Grazie mille Porco Due capelli che ho Campioni Grazie mille A chiunque abbia seguito Fino ad ora Questo video Io vi ringrazio Vi mando un abbraccio Virtuale Se avete voglia Supportatemi Mi link sono qua sotto Un bacione Grazie mille Alla prossima